Ciao amici e collezioni, siamo venuti del Topolino, del fumetto delle fiere e di Rapallonia. Quest'anno 2024 c'è stato un evento epocale per quanto mi riguarda Rapallo, con la classica manifestazione ormai annuale negli ultimi anni, qui in città perché è arrivato Don Rosa. Ecco, io ho sempre detto in maniera con scherzo, ma in realtà ci credo anche, che Casti sia il nome sopra il titolo, perché è il mio autore preferito, però oggettivamente l'autore che oggi in vita può definirsi davvero sopra il titolo, un po' per tutti, è Don Rosa. Un autore che oggi, che in questi due giorni, sabato e domenica, ha avuto la possibilità di incontrare chiunque a Rapallo e personalmente con grande onore io ho potuto farlo per due volte, uno sabato e uno domenica. Con questo video voglio fare semplicemente una rassegna di quello che è successo, mettendoci la faccia perché in realtà ho anche da dare qualche critica all'organizzazione. Rapallo è una piccola città, una città che contiene generalmente 30.000 abitanti, in estate raddoppiano, però quando c'è un evento di questo tipo ovviamente molta gente viene da fuori e quando abbiamo grandi autori, quali Cavazzano in passato, Mastantuono, Mottura, ovviamente vengono tante persone da fuori, tanti collezionisti, anche perché di Rapallo, eccetto me, non conosco nessuno che colleziona, che è così appassionato. Però bisogna anche considerare questo nome. Ecco, Don Rosa è un nome che ovviamente prende le masse, che le trascina da tutta Italia e secondo me pure anche da fuori Italia, perché non so se ho capito bene, ma un paio di persone le senti parlare inglese o forse francese, comunque anche stranieri. Ecco, l'organizzazione fu pessima, fu mal gestita, all'evento, mi dispiace, ecco, spero che chiunque all'ascolto dello staff non se la prenda con me, perché comunque sono miei concittadini molto spesso, ma il primo giorno, in particolare sabato, è stato dell'Etherio. Voi immaginatevi in uno spazio di 20 metri quadrati, su in realtà un ampio giardino, ma ristretto in 20 metri quadrati, c'era uno stand che vendeva materiale un po', non dico casuale, però in generale, dedicato agli autori, quindi un piccolo stand dedicato alla vendita materiale, di roba di paglini comics, roba esterna, roba sugli autori. Un ragazzo che dava dei gettoni, che tra l'altro non sono serviti a niente, perché l'evento funzionava così in teoria, con questi andavi a chiedere uno sketch agli autori, ma a me sono rimasti in tasca perché non sono serviti a niente, quindi doppia fila, e poi a fianco c'era Bigarella, per esempio insieme a Luca Barbieri, che firmavano oppure sketchavano, perché appunto Bigarella è un disegnatore. Ecco, in 20 metri quadrati c'erano tre file, quindi voleva dire tre ammassi di persone, e in tutto ciò, poco sopra c'era Don Rosa che aspettava. Ma non si riusciva a capire, me personalmente, Don Rosa che appunto fosse, perché ognuno di noi aveva un bigliettino, lì era un pochino più organizzato, per poter andare a farsi firmare qualcosa. Un delirio totale, ecco, tanto che questi mi sono rimasti in tasca perché non sono serviti a niente, e me li sono portati a casa, ma senza volere. Non li ho rubati, mi sono rimasti in tasca. Poi vabbè, roba di plastica, sono dei gettoni privi di valore, però, farvi capire che la fiera è stata mal gestita. Peccato, perché la gente era tanta, io feci due code, al sabato mattina, dalle 8 alle 11, 8 un quarto fino alle 11, in coda fisso, fermo, una cosa che non ho mai fatto. So che molti di voi all'ascolto fecero anche code di 10-15 ore, però per me tre ore sono tante, per quanto nella mia città, per quanto vicino a me, però sono comunque tre ore. E il giorno dopo, sempre dalle 8, no, dalle 7 e mezza alle 11, quindi un'altra coda, però vabbè, l'ho fatto, un weekend si fa. Ma la coda è un conto, ma il problema è tutto il resto, perché poi si creavano sotto code che arrivavano da destra, da sinistra, gente che si intrufolava, insomma, stava lasciando l'organizzazione, io sintetizzo il tutto dicendo che il mondo è dei furbi. Non dico nient'altro, chi c'era può intuire. Ecco, i famosi vecchi volponi che spesso citai anche in altri video alle fiere, sanno come bisce intrufolarsi e passare anche di fronte a tutti noi imperterriti, insomma, saltare la coda, ecco, e farsi furbi. Io onestamente non ho fatto questo tipo di gioco, tanto che mi portai a casa solo due sketch, solo, tra virgolette, ecco, per un evento gratuito comunque ogni cosa è buona e comunque due volte con Don Rosa che vuol dire aver comprato anche qualcosa. Tralasciando quindi questa critica, passiamo a come è andata la fiera, come è andato l'incontro con Don Rosa. Allora, a tutti veniva dato questo booklet, un po' spoglio onestamente, perché all'infuori dei credit iniziali e di quelli finali dedicati a tutti i vincitori, i premiati da Ujanku, famoso ristorante Rappallino dedicato ai fumetti, il resto è tutto bianco. Peccato, poteva essere gestito meglio considerando che gli anni scorsi è sempre stato pure con qualche illustrazione interna, a sto giro no. Però, dietro c'era una tavola passata di Don Rosa e quindi lui la firmava. Ecco qua, Don Rosa. E quindi io, tra le tante cose portai pure questo, si poteva fare, feci firmare il retro. Valore zero, anzi meno uno. Però era gratuito, quindi perché no? Ecco, è carina questa illustrazione di Karl Barks. che non so manco da dove arrivi, però si rifà all'Italia, è simpatico. Ecco, poi all'infuori di questo c'era un catalogo, questo molto bello, ve lo voglio mostrare perché merita. Un catalogo molto ampio, ecco, per farvi capire un topolino a queste dimensioni, molto grande. Karl Barks scritto un'arapallo. La copertina non so manco di chi sia, non so rubito a capirlo, c'è scritto magari nei crediti, non lo so, vediamo se posso dedurlo. Ecco, Giulio Rincione, forse, sì, non so chi sia, però bella, col castello iconico della città, con Karl Barks, con chi sarebbe questo, di Paperone, però simpatico, nel suo stile di questo autore, bello. La carta anche molto valida e lucida, nel retro c'è questo papero direi di Barziano, c'è scritto riservato ai soci, 12 euro, ecco, costava questo, ma veramente ben fatto, ecco, vi mostro qualche pagina, la carta è veramente bella, per 12 euro per me è un piccolo gioiello questo, un'introduzione da parte del sindaco, tra l'altro neo sindaca della città, e poi tanti redazionali, ora io non li ho ancora letti, ammetto, però qualcosa di molto carino, tra l'altro è interessante perché provengono da collezioni private, per esempio, ora qui da collezioni Fieconi, che non so chi sia, forse un tal Federico, che a quanto pare possiede Barz originale, e quindi io mi immagino coloro che hanno creato quest'albo, che dovrebbero essere Namias, Busnelli, Brignone, che sono un po' i curatori di questa mostra, perché poi c'era anche una mostra legata a Carbarz, nonché di quest'albo, sono messi in contatto con tantissime personalità, pur di avere queste belle illustrazioni, ecco qui ancora collezione privata, guardate che spettacolo, per me questo è un bel albetto, certo, lo paghi 12 euro, però, è un ricordo, ecco, c'è sempre stato quel qualcosa che identifica la Pallunia, e va bene così, guarda qui, bello e bello, tra l'altro, c'è anche questa bellissima splash, che si rifà a una storia di Carbarz piuttosto famosa, nelle Ande, ora non ricordo bene, e qua c'è ancora un'altra immagine, abbastanza grande, e poi c'è una pagina in cui Don Rosa metteva la sua firma, quindi perché no, tanto andiamo avanti, guarda qui pure che è bello, perché no, fare firmare anche questo, ragazzi, valore zero, però tra l'altro è sempre la stessa illustrazione, ma con la sua firma qui in basso, Don Rosa è stata una persona, adesso è giunto il momento anche di parlare di lui, eccezionale, non ho mai visto un autore con tanto cuore, io feci due domande a Don Rosa, una il sabato e una domenica, la prima, e se ci fosse mai in qualche utopica situazione, la possibilità di vederlo su Topolino, ma così, proprio io l'ho lanciata lì, come cover vari, in inglese, dicendo a lui che sarebbe stata la variante più gettonata, una variante anche di estremo valore, la sua risposta fu Nevermore, Impossible, molto molto serio, poi in realtà si è messo a ridere, un po' scherzato, thanks for the question, ma impossibile, il trattamento che ricevete Don Rosa, non tanto quando lavorava alla saga, negli anni passati, ma negli ultimi anni, per via della censura, per via delle ristampe, non fa di certo onore all'autore, una persona in primis dal cuore d'oro, perché lui ha fatto sabato dalle 10 alle 7 e mezza di sera, filato, eccetto per uno snack, per il pranzo, e la domenica anche, dalle 10 e mezza fino alle 7 e mezza di sera, eccetto per la mostra inaugurata e per un'intervista metà mattinata, metà giornata, ma del resto ha fatto un lavoro eccezionale e considerato che l'evento era gratuito, quindi tutto quello che mi sono portato a casa a titolo gratuito, a maggior ragione io che semplicemente ho fatto 10 minuti a casa, a piedi, quindi è stato molto per me, un evento unico, ecco, pensavo di non vederlo mai Don Rosa, ma ho avuto questa possibilità, poi ora vi lascio anche le due foto, la prima di sabato e la seconda che avete di domenica, poi c'era anche una stampa che tra l'altro era la stessa che avete capito questa, però su carta ruvida, eccola qui, carina, che però io sono sincero non so per quale motivo ma ne ho due, firmate, la firma è col pennarello sua, ne ho due perché io pensavo di averne solo una, ma quando diedi le cose da far filmare a Don Rosa, ora vi spiego pure le modalità, io ne diedi due, ma per esempio la prima era soprattutto l'ultima sotto e quindi lui firmò ugualmente perché ogni cosa che portava lui firmava con una sola regola ovvero quello che massimo due albi anche se inizialmente privi dalla confusione c'è chi furbamente il mondo dei furbi d'altronde, ripeto, riuscì a farsi firmare più cose creando più coda creando confusione, vabbè, ma al massimo era due cose portate da casa e io comunque riuscì a farmi firmare circa 5-6 albi perché in due giornate pure con un amico. Ora, passiamo appunto agli albi che sono venuti a farmi firmare, tra l'altro lui rimase anche molto contento di vedere questo per esempio il numero 70 perché è la prima edizione in cui compare la saga di Don Rosa nel primo capitolo ecco qua con la sua firma Don Rosa questo è materiale che io non venderò mai però sono quasi sicuro che se dovessi farlo non lo venderei a 10 euro il suo valore originale di base perché è il numero 70 ma avendo la firma una cosa in più ma non lo farò mai perché non sono quel tipo di persona e non mi interessa anzi, proprio la seconda domanda fu cosa ne pensi in inglese sempre di coloro che rivendono il materiale con il nome tuo e lui semplicemente mi ha un po' guardato un po' così soghignando con quel classico soghigno amaro dicendo cosa devo pensare ognuno fa quello che vuole io cerco di soddisfare i fan ogni volta che li vedo poi non posso ovviamente obbligarli a tenere le cose con loro ma il modo in cui me l'ha detto il modo in cui mi ha guardato il modo in cui faceva le cose in generale mi ha proprio fatto capire quanto lui fosse appassionato lui voleva mi sembra di aver capito una persona dentro lo staff me l'ha confermato anche andare dopo cena però la villa doveva chiudere la villa in cui si stava ma lui avrebbe avrebbe continuato a titolo gratuito sì poi non so probabilmente gli hanno pagato vitto alloggio qualcosa gli avrà andato sicuramente però al fan non ha chiesto niente se non il rispetto di avere due cose ecco di non far filmare troppo ma nel rispetto degli altri non tanto verso di lui lui avrebbe fatto tutto letteralmente tutto si fermava anche a parlare domande risposte c'era una traduttrice vabbè io non la utilizzai se non per fare le foto però ecco il modo in cui trattava il fan io non ho mai visto questo trattamento neanche dagli italiani che conosciamo certo io parlai con con gli autori presenti lì ma non è la stessa cosa cioè non te lo aspetti da un autore internazionale che che spenda al suo tempo a titolo gratuito ripeto per dei fan italiani dopo tanti anni che leggono la saga insomma una cosa emozionante che non pensavo poi mi feci firmare anche paper dinastia questo è l'albo forse uno di quelli che meno vale tra virgolette no di Don Rosa però perché no bella firma adesso varrà qualcosa in più no penso sia una delle edizioni più non dico più più brutte però con più censura forse non va derrato con con dei difetti di colore non lo so però lui ecco non parlando pure con altre persone che gli fecero domande in merito alle edizioni ovviamente lui disse che la più bella è quella definitiva l'ultima the definitive the ultimate ma lui ovviamente rispetto al fan e a chiunque diceva cioè non è che poteva limiti non poneva problemi per lui certo vede le differenze tra le edizioni lui è molto preciso con un amico si sono messi a confrontare anche tra edizioni lui le sa tutte ovviamente lui è l'autore e ogni edizione lui la conosce italiana soprattutto ma anche estera c'erano persone che gli hanno portato anche edizioni finlandesi edizioni tedesche lui le conosce tutte però con estremo rispetto lui ha firmato senza alcun tipo di problemi qualcuno diceva anche che avrebbe messo una barra sulla parola Disney per quello che è successo che io sappia non l'ha fatto quindi va bene così poi mi feci fermare anche il tesoro International 1 un'altra bella edizione mi sembra che questa sia l'edizione abbastanza fedele all'originale volevo fare anche il numero 2 ma poi evitai ecco qua Don Rosa invidio chi si fece firmare in copertina con la variant cover numero 1 mannaggia a me nel 2016 quando uscì ma io ero ancora un pischello del collezionismo non sapevo scelsi questa perché perché quella bianca era troppo bianca questo era il mio commento da 18enne che ero vabbè al tempo anche un'altra epoca altro modo di pensare però io ho visto una persona che che aveva quella lì bianca tiratura limita tra l'altro carina e se la fece firmare in copertina quello è un bel pezzo secondo me anche a livello collezionistico mi feci poi anche firmare questo che è bellissimo questa doratura è fantastico talvolta mi ci specchio da quanto è bella Progetto Duck adesso ha anche la sua firma ecco qua lui tendeva a firmare internamente perché comunque nella copertina non aveva molto senso qui sono albi che a volte li riguardo sono meravigliosi Don Rosa è un autore che davvero meriterebbe di essere comprato in ogni ristampa per poter avere proprio un discorso anche filologico un discorso di cronologia ecco stavo cercando la tavola più bella giusto per farvi capire cosa ne penso di Don Rosa per me è questa che purtroppo non c'era nelle stampe che lui vendeva ma questa dell'arcobaleno per intenderci quinto capitolo sul finale è meravigliosa l'avrei voluta comprare se ci fosse stata ne ho comprate però altre tre poi vi dirò anche il perché il motivo l'ultimo albo firmato da parte sua è questo questa è un'altra piccola chicca tra l'altro io ho ancora la targhettina speciale Expo Cartoon Expo Cartoon non ricordo di che anno parliamo boh ma ovviamente ancora in lire versione numerata il mio numero è il 3131 se non erro sì e proprio sopra abbiamo la firma di Don Rosa piccolezze però sai se questo albo valesse 20 non lo so con la firma non vale più 20 non interessa è solo un discorso così pur parler ecco poi dicevo comprai tre tre stampe a tre in teoria qualsiasi stampa tu comprassi lui te la firmava quindi se tu andavi lì con mille euro e ti volevi comprare quindi 30 stampe perché le stampe a tre costavano 30 euro l'uno quelle a 4-20 lui ti avrebbe firmato tutte 30 c'era anche un bundle di 12 a 250 euro ma ho evitato perché sembra mesagerato però decidi di prenderne tre e ve le mostro in particolare una sono piuttosto soddisfatto perché la ritengo una piccola chicca anche per chi di stampe non si interessa la prima la comprai perché mi piaceva proprio avere un percorso dello zio è una stampa non è originale ovviamente con la firma e con la qua Don Rosa applicata con il pennarello questa stampa è meravigliosa ora non ricordo quando si riferisce ma secondo me fa parte di una delle ultime tavole della saga diciamo la parte i capitoli originali non vuole dire Gaff ma secondo me quando lui si ricorda quello che è stato ecco sul finale mi ricordavo questa che è simile ma non è proprio la stessa comunque volevo avere questa perché c'è tutto lui c'è Gio Paperone da bambino in tutte le sue forme bellissima poi così colorata molto carina su un semplice cartoncino ruvido no non ruvido liscio però bello ottima fattura 30 euro però con la firma rimane a me anche firmato il tutto in questa pratica busta in cui ci rimarrà per sempre perché non so bene dove tenerlo altrimenti per evitare che si spiegarsi poi la seconda che io mi sono innamorato a vederla subito anche se forse un po' banale è una delle tavole più belle o meglio delle copertine forse perché mi pare questa è una copertina in cui c'è Gio Paperone e anche Doretta Doremi questa è bellissima io non so chi sia il fortunello chi sia la persona che pagò al tempo per avere l'originale sempre che sia già stato venduto di questa copertina c'era anche a colori la stampa ma l'ho preferita in bianco e nero ne volevo quindi uno a colori orizzontali uno in bianco e nero verticale e la terza un po' particolare lo vedrete anch'essa firmata poi a Pennarello Don Rosa lui ha sempre firmato a tutti in questo modo molto artistico perché sapete lui firma così non metteva dediche perché altrimenti avrebbe dovuto inserire e scrivere la dedica anche nel suo stile e sarebbe stato troppo troppo tempo avrebbe impiegato bellissima e guardate il dettaglio ma comunque la stampa è proprio molto bella e in generale vi fa capire cosa è stato Don Rosa non sarebbe più capace di farlo non ha più anche a livello visivo le prospettive presumo però con una persona dicevamo quanto ha perso Disney a trattare così un mostro come Don Rosa perché secondo me certo con i problemi di vista quello che vuoi si poteva azzardare davvero una variant cover oggi con Don Rosa avrebbe venduto ma non solo in Italia ecco mai dire mai anche se Don Rosa su questo argomento è sempre stato piuttosto restio anche quando io lo nomina io insomma sì che poi ci scherzo sopra ma vabbè insomma mi godo il momento di averlo vissuto da esterno dopo diversi anni ad avere qualche sua cosa firmata la terza tavola che comprai è una tavola un po' particolare perché non è un disegno dentro la saga ma come redazionale ed è la planimetria completa che Don Rosa realizzò per il deposito è fantastica tra l'altro la grammatura della carta è diversa è più spessa non si può notare ma è anche lucido vedete come riflette la luce firma meravigliosa in argento spettacolare con un penarello dedicato quindi era anche molto organizzato come persona aveva penarello blu rosso verde argento nero e ne aveva diversi in base alla carta in cui doveva firmare perché lui le edizioni ripeto le conosce tutte tanto che Zio Paperone 70 lui non ce l'aveva con l'edizione anche se per un attimo ho capito così ma con la carta molto porosa e quindi aveva un penarello dedicato a quel tipo di carta e questo è bellissimo io non so se già ce l'ho come redazionale dentro uno dei tanti formati che possiede la saga ma sicuramente si può trovare nella Definitive Complete Edition da 250 euro come redazionale a piccolo poster che si apre l'avevo visto e l'ho fatto vedere anche in un video qua sul canale grazie a Roberto insomma in un suo video e tra l'altro io rimane sorpreso che ci fossero 12 12 piani io non lo sapevo ecco fu un'altra curiosità che davanti a lui un po' con sorpresa feci notare che in realtà è lui che lo feci notare a me 12 piani ecco non ci pensavo solitamente il deposito siamo abituati a vederlo come un piano di scale e poi lo zio che si butta dentro i soldi in realtà c'è molto altro ci sono i contratti lo stock exchange che sarebbe dove quindi fa le varie conversioni o dove tiene i conti di quello che possiede anche sulle comunicazioni mail room la switchboard la zona anche dove dove sistemarsi il suo quartiere privato così chiamato con la bedroom quindi la stanza da letto lo studio la stanza ecco la cucina il soggiorno questo era era d'obbligo comprarlo non l'avevo comprato subito presi soltanto le prime due però poi altri 30 euro dovevo comprarlo perché è bellissimo questo è da incorniciare questo è veramente bello e poi la firma dà quel tocco in più di bellezza le altre due probabilmente le terrò con estremo piacere dentro la loro bustina magari cercherò una busta più idonea perché è leggermente più grande ma questo è da incorniciare è bellissimo e sono continuati da aver più 30 euro poi con la firma c'è un tocco in più di particolarità dunque su Don Rosa io riuscii a farmi filmare questo in due tornate e comunque pure grazie a un amico che nella prima fece qualcos'altro per me poi l'amico Danilo mentre eravamo lì uno fra i tantissimi adesso non voglio nominarli tutti ma lascerò poi un commento su tutti coloro che mi hanno salutato mi diede questa che io non conoscevo ma è una piccola cartolina che venne realizzata a Reggio Emilia tutto questo accade domani Casti questa cartolina mi mancava io non avevo questo pezzo di Casti quindi io ho qualcosa in più anche da questa manifestazione e con l'amico Danilo mi piacerebbe ecco arrivare prima o poi a parlare con Casti chissà chissà bella carina me ne fece omaggio ecco io per sdebitarmi tra virgolette gli feci firmare un album nella mia sessione a Don Rosa poi ebbi la possibilità di avere due sketch solo due perché purtroppo cioè da un lato va bene ogni cosa è più che guadagnata essendo un titolo gratuito però l'organizzazione era quella che era i tempi erano troppo dilatati troppo troppo lente anche un po' gli autori perché tanti autori andavano con con la matita poi la ripassavano la china no però quasi quindi soltanto due uno di Zanchi dove avrei potuto chiedere Gastone avrei potuto chiedere Priscilla ma avendoli già entrambi chiedi un topolino ecco non so quanto si riesca a vedere però volevo vedere un topolino di Zanchi e lo possiedo lo preferisco ai paperi sono sincero però ho potuto vedere che così ci ha impiegato penso un paio di minuti ecco Zanchi era uno di quelli molto veloci di quanto sia forte anche con i topi con topolino poi l'ho visto prima con Pippo l'avevo visto con non con Minni ma con un altro personaggio con dei topi con Basettoni forse lui sa fare tutto Zanchi è un grande è un mostro non ho voluto rincarare la dose dicendo a lui nell'ennesima volta che è il post Freccero semplicemente gli chiesi tornerai in Italia a tempo pieno e lui rimase un po' un po' sorpreso ecco perché in realtà lui in Italia c'è però lavora più che altro in Francia con Glenard con delle cover bellissime andatevi a vedere le cover di Zanchi per i Super PXU per i Super PXU PXU Magazine quelli di libro storati belli cover meravigliose però lui in primis sa dire che in questa fase della sua vita preferisce lavorare lì perché ha più spazio ecco ma Zanchi ragazzi va porato in Italia non ti dico mensilmente perché fa dei disegni che richiedono tempo ma almeno una volta stagione cioè Zanchi non si può privare tra l'altro Zanchi cura le copertine in realtà sì dei classici ma fa solo quello solo tra virgolette solo quello io darei più spazio a Zanchi perché per me è il dopo Frecciero e il dopo Frecciero se la contendono Zanchi e Baccinelli altro autore da tenere sotto controllo perché è un grande non l'ho ancora mai visto ma con l'almanacco fa grandi cose e poi secondo e ultimo sketch è di Alessandro Perina autore che non avevo mai visto chiesi a lui un busto di Minnie tra l'altro Perina disegna con una penna blu con una matita blu prima molto leggero e poi va a ricalcare con la stessa matita bello non avendo mai visto l'autore ecco decisi di di chiedere una Minnie quindi Topolino e Minnie poteva andarmi peggio senza sketch senza don rosa poteva andarmi anche molto meglio perché i cosiddetti furbi o comunque le persone che hanno avuto anche più possibilità essendo prima in coda o scegliendo meglio l'autore hanno avuto sicuramente anche altre soddisfazioni ma personalmente la più grande soddisfazione sono stati tutti coloro che mi hanno riconosciuto io mi sono sentito indebitamente cioè senza volere una star infatti io ero con un amico e non riuscivo a parlare con lui nel primo giorno perché mi fermava di continuo persone cioè è stato un momento per me quasi quasi imbarazzante perché qualcuno mi chiese anche la foto ecco mi devo scusare con Silvia con Raul Incio con Riccardo possiamo farci una foto anche autori come Bigarella Di Polito Palazzi Zanchi stesso Coppola mi fermarono comunque ci incrociamo con lo sguardo e ci salutiamo e questa per me è una cosa bellissima ecco io più che quello che mi porto a casa a livello materiale mi porto a casa la vostra stima che è reciproca l'ho sempre detto non guadagno nulla da ciò zero centesimi ma quello che guadagno a livello di stima di affetto di relazione di commenti per me è impagabile a me non interessano i disegni li ho ricevuti va bene anche Don Rosa va bene le stampe le firme ma se dovessi scambiare questo con l'affetto che ricevo lo farei subito per me la relazione è quello che conta il contatto le amicizie sono un tipo forse all'antica non lo so ma per quanto io sia una persona molto materiale lo sapete io ho una marea di roba di topolino in realtà a me più che del materiale in sé mi interessa il perché l'ho ottenuto chi me lo vendette o chi me l'ho regalato dove l'ho ottenuto perché alla fine il ricordo è quello non tanto l'oggetto ma chi te lo ha fatto trovare chi te lo ho vendetto chi lo ricercò per te insomma ho potuto associare adesso anche molti nomi a molte facce del gruppo Telegram ecco quindi grazie a chiunque mi abbia accompagnato in questa avventura a Rapallunia perché di fatto a livello materiale magari ho portato a casa poco rispetto a tanti altri che io ho visto fogli su fogli una marea di roba però insomma ripeto non era quello il focus con me ma mi porto a casa ecco tanto affetto tanta relazione che tante volte diamo per scontato noi youtubers ma bisogna considerare che lo youtuber il content creator la persona che si vedo su youtube esiste perché qualcuno lo guarda per me questo dà un senso è una delle piccole cose che dà senso alla mia vita ve lo dico sinceramente ci ho detto un evento che a livello organizzativo io do voto 5 non posso dar di più perché troppi problemi diciamo che solo chi li ha vissuti può capirli e può confermare do voto agli autori 10 perché comunque per quanto io non ho avuto la possibilità di avere guerrini soffritti che avrei voluto magari avere perché non l'avevo mai visto pure freccero molto disponibili tutti guerrini addirittura mi sembra che arrivò lì alle 10 uscì alle 2 cioè invece che uscire a mezzogiorno come tutti uscì alle 2 scemo io che non mi sono fatto fare nulla ma in quel momento ero con Don Rosa e quindi non potevo non potevo sdoppiarmi quindi agli autori 10 organizzazione 5 e a voi chiunque mi abbia riconosciuto 1000 perché è la cosa che più ricorderò di questa manifestazione detto ciò spero ci siano altre possibilità di rivedersi spero che la pallugna prossimo anno possa ripetersi perché l'evento è meritevole lo spazio un po' meno avete capito però gli autori insomma Don Rosa non so se lo rivedrò mai più ma è stata un'emozione davvero importante per me e penso per chiunque per la prima volta o anche la seconda la terza lo avessero visto in questi giorni alla prossima grazie per la visualizzazione e ripeto al prossimo video ciao 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 ciao